Ciao, sono Sergio Mugnis e volevo invitarvi alla terza edizione di Vivere da Sportivi, l'etica e il fair player nello sport. Allora, fare sport fa benissimo, non solo perché ti fa diventare anche più bello, e fa bene anche alla testa, quindi fare sport fa bene al corpo, alla testa, tutto, ti fa vivere una bella vita, ecco. E quindi volevo invitarvi a partecipare alla terza edizione di Vivere da Sportivi. Un abbraccio! Grazie!